Grazie a tutti. E il tenente che lo visita perché voi sapete che prima si faceva la visita militare eccetera eccetera. Allora questo qui dice mo vedo se la posso far franga diciamo il soldato e si presenta. Io purtroppo sono costretto a interpretare la voce del soldato e la voce del tenente e sicuramente si capisce più o meno. Allora il tenente che inizia e dice cattino sto unguaiato dice il soldato e vai dicendo. Signor tenente cominciamo a coppia. Sono assurdo, vengo poco. Rà! E dopo? Tengo sei gente e due stanno caren. Apri essa. Coppagola ma sta scendendo una voce che mi accoglie appena dopo. E poi un affanno se cammino troppo e a ruolo tre mesi non sto deggerendo. Allora, ora cominciamo a fare la voce. Tieni la galla. Signor sì, tengo il dolore articolare e faccio il coscio certe macchie gialle. Ho già capito meglio. Tuo partito. Idoneo. E come faccio militare? Fa me soltanto fronte, bohkwari. Musica ma è di forza! 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 Non dò sento un tasto in braccia, non dò a questa maccia, non dò a streglie, porto un braccio a me. Lascia da una mattia in fondo, ma non vogliono ieri a la pazienza. Non dò un' Audit, gr没有, ma non vogliono ieri a People's gospel, ma non vogliono ieri a jouer e a me. Scriviti al nostro canale Voglio O innamora, O innamora, O innamora, Sala, Amen.